Cari amici, oggi parleremo dell'Iliade per concludere questo ciclo di lezioni dedicate alle antiche civiltà dell'Egeo. L'Iliade significa il poema che racconta l'epopea di coloro che hanno preso d'assalto la città di Troia, un'epopea attribuita, e lo vediamo su questa immagine, a questo aedo chiamato Omero che probabilmente ha radunato in un insieme armonioso tutta una serie di tradizioni scritte ed orali risalenti a varie fasi della storia del mondo Egeo e ha radunato queste tradizioni intorno all'VIII secolo a.C. Omero quindi è stato il misterioso autore, dico misterioso perché sappiamo ben poco di lui, il misterioso autore a cui è attribuito questo capolavoro della letteratura universale. E parlando dell'Iliade, lo vediamo sull'immagine, entriamo nel mito, nel mito della città che è stata presa d'assalto dai greci, i quali spinti da Ulisse hanno inventato una stratagemma per poter penetrare all'interno delle mura e quindi distruggere la vecchia acropoli di Priamo, hanno fatto costruire dai loro artigiani sul litorale di Troia un grande cavallo, hanno fatto finta di fuggire, di abbandonare il campo di battaglia, nel cavallo erano nascosti i guerrieri greci, i troiani creduli hanno aperto le loro porte per portare questo cavallo all'interno della cinta muraria di Troia, durante la notte i guerrieri greci sono usciti dalla pancia del cavallo, hanno aperto le porte al resto dell'armata greca che non era fuggita ma si era semplicemente nascosta e così la città è caduta nelle mani dei greci e quello che racconta Omero nell'Iliade. Cosa rimane oggi di Troia? Già ne abbiamo parlato, rimangono una serie di rovine molto interessanti ma oggi quello che voglio raccontarvi è la storia di una serie di personaggi legati all'epopea America, Agamennone, Achille, Priamo, Ulisse e soprattutto Elena. Il quadro, quello che fa da sottofondo a queste storie è ovviamente la piana di Troia, laddove si è sviluppata la battaglia intorno alla fine del XIII secolo a.C., vedete questa immensa piana di Troia lungo le coste nord-occidentali dell'Anatolia con l'antica acropoli di Troia scavata da Schliemann e scavata da Blegen con la cinta muraria della Troia VI, vi sono tante città di Troia, Troia è un sito che è inizio del III millennio a.C. fino all'età ellinistico-romana, questa invece è la rampa d'accesso alla Troia più ricca, quella del III millennio a.C., quella coeva del periodo delle piramidi, la Troia II, dalla quale proviene il tesoro di Priamo di cui abbiamo già parlato, vedete questa rampa d'accesso al palazzo reale della Troia II e dopo aver brevemente accennato a questo sottofondo che fa un po' da scena all'intero dramma che racconteremo vorrei entrare nel vivo della conversazione dedicata agli eroi che hanno illustrato la battaglia e che sono stati protagonisti dell'Iliade. Il primo è Agamennone, era il capo della spedizione Achea contro Troia, era re di Micene. Questo Agamennone, così come viene descritto da Omero, non era né particolarmente intelligente né particolarmente valoroso. Achille lo ricorda, lo ricorda come un personaggio che ha una funesta tendenza ad abusare del proprio potere di comandante in capo dell'esercito greco per imporre la propria volontà. Omero ce lo descrive con personaggio avido, orgoglioso, ombroso e anche violento. Lo dimostrano, ad esempio, le parole indegne rivolte a crise che viene all'inizio del racconto epico a chiedere il rilascio della figlia Briseide. Siamo al primo canto dell'Iliade, versi 25 a 32. Ascoltate la risposta di Agamennone a questo degnissimo sacerdote di Apollo. Bada che non ti colga più vecchio presso le navi a indugiarvi ad esso o a tornarvi un'altra volta. Non ti salverebbe lo scettro e neanche la benda del Dio. Non la libererò tua figlia. La raggiungerà la vecchiaia nella nostra casa in argo, lontano dalla sua patria, lavorando al telaio e frequentando il mio letto. Ora vattene e non irritarmi se vuoi tornartene salvo. Vi rendete conto? Osa questo essere brutale, osa rispondere in questo modo al sacerdote di Apollo che viene carico di doni per pagare il riscatto della figlia. Agamennone si rivolge a lui con queste parole terribili. Lo pagheranno caro, tra parentesi greci, perché ovviamente Apollo si vendicherà e manderà la peste a decimare l'esercito acheo. Nel sesto libro Omero racconta un episodio che dimostra anche la violenza cieca di Agamennone. Il fratello Menelao aveva catturato un prigioniero troiano a Drasto e questo chiede pietà. Abbraccia le ginocchia del re di Sparta e gli dice al re di Sparta Menelao «Prendimi vivo figlio di Atreo e accetta un riscatto adeguato. Mio padre è ricco e molti tesori sono nella sua casa. Oro e bronzo ben lavorato di cui mio padre ti darà grande abbondanza se mi sapesse vivo presso le navi dei greci». Menelao si convince, si dice adesso ti lascio libero, adesso ti voglio liberare e in cambio tuo padre mi darà questi doni per il tuo riscatto. Ascoltate quello che risponde Agamennone a Menelao, al fratello. «Mio caro Menelao, perché ti curi di questi uomini? Forse i troiani si sono ben comportati nella tua casa. Nessuno di loro deve sfuggire all'abisso di morte per nostra mano. neanche lui deve sfuggire e tutti insieme muoiano a Troia senza onore e senza riti». E così dicendo Agamennone mutò l'animo di suo fratello consigliandoli il giusto. Menelao scosto con la mano da sé a drasto e il potente Agamennone lo colpi al fianco. Si rovesciò all'indietro e Agamennone, puntandogli un piede sul petto, estrasse la lancia di Frassino. Vedete? È un uomo violento che non ha alcuna pietà nei confronti di chi è caduto nelle sue mani. E in verità gli stessi compagni del re di Micene, quindi gli altri acchei, hanno poca stima di lui a cominciare ovviamente da Achille. Sentite quello che gli dice Achille. «Ubriacone, faccia di cane e cuore di cervo. Tu non hai mai avuto il coraggio di armarti per la guerra insieme ai tuoi uomini, né di andare in agguato con i migliori dei greci. Questo ti sembra la morte. Molto meglio restare nel vasto campo dei greci e portare via i premi di chi ti parla apertamente, re divoratore di popolo, perché comandi a gente da nulla. Altrimenti figlio di Atreo per l'ultima volta avresti offeso, per passare ad esempio a Diomede che dice «Figlio di Atreo, non sono d'accordo con la tua follia». Te lo dico subito, come si fa un'assemblea. Tu prima hai offeso il mio valore in mezzo ai greci, dicendo che sono debole e imbelle, e tutto questo lo sanno i greci, a te solo in parte. Ha dato i suoi doni il figlio di Crono dal tortuoso pensiero. Ti ha dato di comandare su tutti con lo scettro, ma non ti ha dato valore, il valore che è la forza più grande. Vedete, il rozzo comandante in capo dell'esercito Acheo è un personaggio profondamente disprezzato dai suoi uomini e anche ovviamente dal poeta. Ed è del resto una pessima figù, fine che farà Gamennone, che verrà ucciso, rientrato a Micene dall'amante della moglie Critemnestra che si chiamava Egisto. Agamennone nel suo sogno di gloria non aveva esitato a sacrificare la figlia Efigenia per poter salpare alla volta di Troia. La regina se lo è ricordato, la regina non li ha perdonato, si è scelto un amante e appena tornato a Micene, a Gamennone, è stato ucciso dalla moglie e dall'amante della moglie. Fine ingloriosa per un comandante in capo che era, come dice Achille, figlio di un cane dal cuore di Cervo. Passiamo a un altro personaggio. Vedete qui abbiamo Egisto che uccide Agamennone. Passiamo a un altro personaggio affascinante dell'Iliade, è Achille. Chi è Achille? Achille è un personaggio passionale, sempre pronto a lanciarsi con entusiasmo travolgente in tutte le imprese della vita. Ed è, è questo il bello di Achille, capace di piangere per un amore infranto, briseide, di commuoversi di fronte all'infinita dolcezza dello sguardo della madre Teti, all'immenso dolore di un padre priamo, ne parleremo tra un istante, alla crudele perdita di un essere caro, l'amico del cuore patroclo. Achille, questo personaggio impetuoso e sensibile, non si fa alcuna illusione sul destino degli esseri umani. Ascoltate quello che dice al vecchio priamo. Dice ci sono due vasi nella sala di Zeus e l'uno contiene i mali che distribuisce agli uomini e l'altro i beni, a chi li dà mescolati Zeus fulminante quando si trova nel bene e quando nel male, ma a chi dà solo dei mali ne fa un disgraziato. Achille sapeva di appartenere alla categoria di coloro che oltre ai dispiaceri potevano anche conoscere qualche gioia, ma la lite con Agamennone per il possesso di briseide gli rivela tutta la drammaticità della sua sorte. Achille amava Briseide e Agamennone da comandante in capo si fa consegnare Briseide ad Achille, comanda Agamennone a potere su Achille e quindi si fa consegnare da Achille la donna che Achille amava. Achille a un certo punto decide di abbandonare il campo greco, il campo di battaglia anche, per andare lungo il mare, invocare la madre e piangere sul seno della madre. E ascoltate quello che dice la madre, madre che mi hai generato a una vita brevissima, almeno Zeus Olimpio tornante dovrebbe concedermi gloria, ma adesso non mi ha onorato. Quindi sa che morirà presto sperava nella gloria, ma è stato offeso. E la madre gli risponde, figlio mio, a che ti ho cresciuto, madre infelice che sono, già che hai avuto in sorte una vita brevissima, ma adesso hai insieme un destino veloce e una pena maggiore di tutti. Davvero a una sorte infelice ti generai nella casa. Vedete con le sue parole Teti afferma che al figlio è stata data solo l'infelicità e perciò Teti tenterà di ottenere da Zeus che sia ristabilita la giustizia e che siano puniti coloro che hanno offeso Achille. Achille, questo eroe che avrà vita breve, accetta questo suo destino, purché sia vendicata la morte dell'amico Patroclo e ucciso Ettore che l'ha provocata. Ascoltate quello che dice. Ora andrò a cercare l'assassino dell'uomo che mi fu caro, Ettore, e poi anch'io avrò la morte quando lo vogliono a Zeus e gli altri immortali. Almeno per Achille la morte in combattimento è associata alla gloria, questa gloria alla quale lui tiene tanto e così ricorda, così anch'io se anche per me è fissato un uguale destino già c'ero morto, ma adesso voglio la nobile gloria. Achille è anche un amante della vita. Ascoltate quello che dice nel nono canto. Per me niente vale la vita, non le ricchezze che dicono, accumulate nella popolosa città di Troia. Nei quelle che racchiude la soglia di pietra di Apollo, il dio arciere in pito rocciosa. Si possono conquistare i buoi e le pecore grasse, si possono acquistare i tripodi e le bionde criniere dei cavalli, ma la vita di un uomo non si può conquistare né prendere perché torni indietro quando è uscita di bocca. Vedete quando è spirato l'eroe non c'è più niente da fare, nessuno può far tornare indietro la vita, si può ovviamente pagare il riscatto di uno schiavo, pagare il riscatto di un eroe caduto nei mani del nemico, ma una volta che un uomo è stato colpito e ferito, a morte non c'è nulla da fare. Il soffio di vita se n'è andato e ormai c'è solo la morte che è irreversibile, è la tappa che segna definitivamente la storia di ogni individuo. Achille, questo essere impetuoso, generoso, incontra a un certo punto il vecchio repriamo ed è uno dei momenti più commoventi di tutta l'Iliade. Il vecchio Priamo è un'altra figura, vedete abbiamo qui Achille a Iace, Achille a guardia del corpo di Ettore e parliamo del vecchio Priamo. Il vecchio re di Troia, Priamo, è un'altra figura che incute infinita tenerezza. È un sovrano buono, amato dal proprio popolo, troppo vecchio per partecipare alla battaglia nella quale si decidono le sorti della sacra Ilio, della sacra città di Troia. Priamo, alla fine della sua vita, getta uno sguardo disincantato sull'atteggiamento che gli dèi hanno nei confronti degli uomini. È in un certo senso il volere implacabile degli dèi che usano le creature mortali per assecondare con inaudito egoismo i loro piani e soddisfare i loro rancori incute in Priamo una straordinaria tolleranza nei confronti dell'uomo in quanto tale. È tollerante nei confronti di Elena di cui vi parlerò tra poco. La chiama mia figlia. È tollerante nei confronti di Achille che gli ha ucciso il figlio prediletto. Gli dice, sai Achille, quello che per me era il solo che difendeva la città, la sua gente. Il vecchio Priamo che piange il figlio morto è anche lo sposo che si preoccupa del dolore della sua compagna. Ci saremo saziati di pianto di gemito, io e la madre infelice che l'ha partorito. Vedete, il vecchio Priamo a un certo punto si reca al campo dei greci per farsi restituire il cadavere di Ettore perché vuole dare degna sepoltura a Ettore e si avvicina alla tenda di Achille che ha ucciso suo figlio prediletto. Entra nella tenda e trova Achille che sta bevendo vino che solo e che piange, piange la morte di Patroclo. E inizia un dialogo tra i due nemici, tra virgolette, che poi in realtà sono due eroi sfortunati. Achille piange sulla propria sorte e Priamo piange sulla sorte di Ettore, sulla sua sorte e sulla sorte di Troia. E a un certo punto Priamo gli dice, guarda, io farò quello che nessun mortale ha mai fatto, abbraccerò le ginocchia di colui che ha ucciso il mio figlio prediletto. Ed è quello che fa il vecchio Priamo. E Achille carezza dolcemente la testa di Priamo e gli restituisce il cadavere del figlio. In questo modo Priamo e la città di Troia potranno dare degna sepoltura al vecchio re, al grande eroe troiano. Questo è Priamo. Questo Priamo che ovviamente è stato ucciso dai greci quando i greci hanno preso d'assalto la città di Troia. È ucciso del peggiore dei modi. Lo vedete su questa Kilix. Vedete qui un soldato greco che sta per uccidere il vecchio Priamo, ecco il vecchio Priamo, utilizzando come clava il corpo inerme del figlio di Ettore Andromaca. È una scena di una violenza incredibile che dimostra la barbarie della guerra e che effettivamente fa rabbrividire quando pensiamo che questo vecchio re di Troia, sentendo le grida dei greci e vedendo la sua città presa d'assalto dall'esercito Acheo, si rifugia nel tempio di Apollo, abbraccia l'altare sul quale i troiani sacrificavano al grande Dio e mentre abbracciato all'altare viene ucciso da Neoptolemo, questo greco barbaro che utilizza come arma per uccidere il vecchio re di Troia il cadavere del figlio di Ettore e Andromaca. Vedete questa Kilix de Euphronios che è conservato al museo di Villa Giulia a Roma, è un pezzo eccezionale di questo grande pittore del V secolo a.C. Vediamo qui di nuovo, primo ucciso da Neoptolemo, particolare questo di un'anforattica della fine del VI secolo. Ulisse, chi era Ulisse? Ulisse è l'uomo che ha sofferto molto, come ricorda Omero nell'Odissea, ma Ulisse è anche colui che ha sempre l'intelligenza per inventare qualcosa di nuovo in grado o di tirarlo fuori dai guai o di assecondare i suoi fini. Ed è Ulisse, questo re di Itaca, uno dei sovrani greci che facevano parte dell'esercito Acheo comandato da Agamennone e questo esercito Acheo che prese da Salto Troia. Ulisse è uno di questi re Achei che comandavano una piccola porzione del territorio della Grecia del secondo millennio a.C. E Ulisse è colui che ha inventato lo stratagemma, come ve l'ho detto prima, che ha consentito ai greci di penetrare nella città di Troia. Questa immagine viene da un gruppo marmoreo della grotta di Sperlonga, qui a sud di Roma, risale al secondo secolo a.C. E' un bellissimo esemplare della statuaria romana del secondo secolo. Qui vediamo Ulisse e le sirene. Per raccontarvi soltanto uno dei trucchi inventati da Ulisse, vi dirò semplicemente che nella navigazione infinita per tentare di raggiungere Itaca dopo la guerra di Troia, Ulisse deve passare al largo dell'isola delle sirene e le sirene sono esseri incantevoli e pericolosi perché con i loro canti attirano i navigatori che si vanno a sfracellare sugli scoli dell'isola delle sirene e che poi vengono divorati da queste creature affascinanti ma pericolose. Ulisse inventa una stratagemma delle palline di cera che mette nelle orecchie dei suoi compagni e lui però ha voglia di sentire il canto affascinante delle sirene però per non essere attratto da questo canto si fa legare all'albero della nave, lo vedete qui legato all'albero della nave. E infine vi voglio parlare della figura per me più affascinante dell'Iliade, Elena. Elena era la moglie di Menelao, re di Sparta, era la più bella donna del mondo e Paride aveva ottenuto da Afrodite come ricompensa della scelta che fece regalando una mela in oro alla dea che lui considerava la più bella, aveva ottenuto come regalo da Afrodite di poter diventare il compagno della più bella donna del mondo, quindi Elena, della più bella mortale. E così Paride, a Sparta, conosce Elena e porta via Elena, questo è il motivo per cui i greci hanno deciso di lanciarsi alla volta di Troia per liberare Elena, distruggere la città di Priamo e in un certo senso cancellare l'offesa che era stata inferta al re di Sparta. Elena è una donna profondamente infelice, profondamente infelice perché è uno strumento nelle mani degli dèi. Elena non voleva assolutamente seguire Paride, ma è stata costretta a seguire Paride da Afrodite. Elena è la donna che in definitiva sognava una vita tranquilla a Sparta insieme a questo marito che era un personaggio rozzo, ma aveva una figlia, aveva delle compagnie e quindi poteva tranquillamente svolgere il suo compito di regina della Laconia nel palazzo di Venelao. Invece no, è diventato uno strumento nelle mani degli dèi. Lo dice a Priamo quando in un momento di sconforto sente la necessità di confessarsi al padre di Paride. Suocero mio, dice, o vergogna e riguardo di te, quanto vorrei aver scelto la morte crudele al momento di seguire tuo figlio, lasciando il netto luziale, la figlia bambina, le amiche coetanee. Così non è stato e per questo io mi consumo nel pianto. Vedete, tagliare i ponti con la propria storia, abbandonare la Laconia, il primo marito, la figlia piccola, le amiche, i genitori partire per la Troade a seguito di Paride e costruirsi una nuova vita in terra straniera è stato l'amaro destino della donna più bella del mondo. Certo, Elena era ammirata, gli anziani di Troia, che la vedono passare mentre si reca sulle mura per assistere al duello che vedrà opporsi Paride e Medelao, non possono reprimere un vibrante omaggio alla sua bellezza. Ascoltate quello che dicono. Non sono da criticare i troiani e gli acchei dalle belle gambiere, se tanto tempo hanno sofferto per una simile donna che terribilmente somiglia alle idee immortali. Vedete, questi vecchi che ormai hanno dimenticato i piaceri dell'amore sentono il loro cuore vibrare di fronte allo splendore di Elena. E questa Elena è anche infelice a Troia perché si rende conto che ha seguito un personaggio Paride che è un vigliacco. Invece a Troia conosce un eroe senza macchia. E questo eroe senza macchia è Ettore. E abbiamo nel sesto canto dell'Iliade un incontro estremamente interessante tra Ettore e Elena. E Ettore fa capire che in cuor suo ama Elena. Elena fa capire che in cuor suo ama Ettore. Ma questo è un amore impossibile. Un amore impossibile. Ascoltate quello che dice Ettore a Elena. Non farmi sedere Elena, anche se è per affetto. Non puoi persuadermi. Già il mio cuore si slancia a dare aiuto ai troiani che sentono la mia mancanza. Piuttosto spingi quest'uomo. Quest'uomo sarebbe il suo compagno, il vigliacco Paride. Che si affretti anche lui a raggiungermi prima che esca dalla città. Io andrò a casa, voglio vedere i servi, mia moglie e il bambino. Perché credo che non tornerò mai più tra loro. Elena, condannata da Afrodite a vivere da profuga in una terra straniera, in mezzo a gente che la critica spesso, costretta a nutire nel profondo del suo cuore un amore impossibile per Ettore, è veramente l'unica donna dell'epopea america capace di ribellarsi alle ingiustizie degli dèi. E vi confesso che molto più di Ettore, molto più di Achille, Elena vi mostra un temperamento battaliero di fronte al destino. Lei dice, per esempio, a Afrodite, delle frasi terribili. Ascoltate, Afrodite, la dea della bellezza, che ha scelto Elena come la donna più bella della mortale, più bella del mondo. Ascoltate quello che Elena dice a Afrodite. Sciagurata, perché t'affanni in questo modo a sedurmi? Forse mi vuoi portare ancora più lontano, in qualche città popolosa della Friggia o dell'amabile Meonia, se vive la qualche uomo a te, caro. Paride era caro a Afrodite. Per questo oggi che Menelao ha sconfitto Paride e vuole portare a casa me, odiosa che sono, per questo sei qui e trami inganni. Va dunque da lui, cioè da Paride, sta con lui, abbandona le strade divine, resta accanto a lui a soffrire, a proteggerlo, fino a quando non ti faccia sua sposa, anzi sua serva. Io là non verrò a preparare il suo letto. Alle mie spalle tutte le donne troiane mi biasimeranno e già ho in cuore dolori infiniti. Vedete, Elena è l'unico personaggio nell'Iliade a osare sfidare gli dèi. E questo grido di Elena, questo grido lanciato da Afrodite, ricorda il grido di ribellione di Prometeo, crocefisso sulle pareti di uno dei monti del Caucaso perché colpevole agli occhi del padre degli dèi di aver amato troppo gli uomini. Ed è questo l'eterno grido della Grecia ricordato anche da Pericle dopo la chiusura dei cantieri del Partenone. ho cercato la verità, ho trovato la giustizia e la libertà, ho fatto rialzare l'uomo prosternato davanti agli dèi per oltre quattro millenni e così l'ho liberato dal despota. Elena vuole liberare la donna da quella che è la despota in questo caso Afrodite. e vedete per me Elena insieme a Arianna, Antigone, Cliternestra, Safo, Medea e anche le umili contadine dei viaggi di Creta o della Tessalia che osavano sfidare i nazisti per andare a seppellire gli eroi della resistenza greca, Elena appartiene al corteo infinito delle donne greche che hanno insegnato al mondo a gridare la propria rivolta contro gli oppressori. e gli eroi che ha fatto a chi